Era un po' di giorni che se ne parlava, è arrivata adesso la conferma il nostro beniamino Chaka Traoré finalmente ha rinnovato con il Milan, contratto fino al 2028, pensate 5 anni di contratto per lui quindi alla fine si è arrivati a un accordo per il nostro giovane talento esterno-sinistro ma anche esterno-destro, toccherà a Pioli capire dove schierarlo io come sapete lo continuo a preferire sulla sinistra però vediamo anche se può essere utilizzato sulla destra comunque conferme, quest'anno il calciatore dovrebbe far parte della prima squadra vedere poi appunto il minutaggio quanto sarà, soprattutto vedere se durante questa preparazione estiva riuscirà a convincersi Pioli per meritarsi appunto uno spazio tra le riserve dei due esterni che saranno i nostri titolari quest'anno non credo prima riserva però seconda riserva tanto destra che sinistra la può fare tranquillamente probabilmente non credo che rimarranno sia lui che Luca Romero che Ugo Quenca probabilmente uno o due di loro rimarrà con la squadra gli altri verranno mandati in prestito il giocatore sicuramente ha tutto per giocarsi le sue chance quest'anno nella rosa del Milan andiamo a vedere un po' di statistiche su di lui vediamo che ragazzi considerando sempre gare da 90 minuti ha praticamente un gol ogni due partite, un assist ogni quattro 47% di precisione di tiri in porta pensate prova quasi 11 volte il dribbling a partita riuscendoci però un 47% deve essere realmente un po' più effettivo magari provarci un po' meno perché 11 volte sono veramente veramente tante provarci magari 8-9 però riuscirci più della metà come abbiamo visto in altri profili per la fascia come in questi giorni come Isaks, Enciuqueze e tanti altri interessanti come sempre anche gli allunghi a partita sappiamo che 1 contro 1 e velocità sono le due cose che cerca Pioli per l'esterno quindi lui ha un po' di tutti e due vediamo anche 3,5 appunto allunghi a partita quindi un calciatore che sicuramente potrebbe essere interessante per Pioli sono molto curioso di vedere in queste prime amichevoli dove giocherà, come giocherà e chi tra i giovani della primavera si meriterà una chance il prossimo anno nel Milan su Balloture invece continuano le voci di cessione speriamo che quest'anno sia la volta buona il buon Fode Ballo credo che ha dato tutto quello che poteva dare nel Milan che se ne vada in una squadra di un suo livello parlano di Bologna, qualcuno dalla Liga An vediamo, stiamo in attesa però io conto che sia una delle prime uscite vediamo chi arriverà perché nome per il trazione sinistro è uscito ieri il nome di Luca Pellegrini si potrebbero essere riuniti appunto gli agenti del calciatore con il Milan vediamo, potrebbe essere un nome interessante anche perché italiano giusterebbe con le liste, giovane ma non troppo, ha già esperienza quindi credo che Luca Pellegrini perché no potrebbe essere un nome interessante per il terzino sinistro per Gabbia poi sembra quasi fatta con il Genoa stanno confermando un po' da tutte le parti molto importante anche per il central italiano andrà a trovare finalmente un po' di continuità il ragazzo non so se ha già 24-25 anni non ha mai fatto una stagione da titolare quindi credo che sia arrivato il suo momento per fare appunto questo passo esattamente infatti ho appena guardato Gabbia compierà 24 anni questo ottobre quindi credo che sia arrivato il momento appunto di dargli un po' di minutaggio e una stagione da titolare da qualche parte sempre il Genoa poi interessato anche a Colombo lo vediamo che il Genoa sta attaccando sta cercando un attaccante Colombo, Gabbia, pare difesa ma davanti anche Marco Retteghi che lo sa che alla fine finisca in Italia per l'esterno destro tanto Salema Cass che Messias poi realmente potrebbero partire sembra lì che Pioli è stato molto chiaro con i calciatori gli ha detto che il loro minutaggio quest'anno sarà decisamente inferiore rispetto agli anni scorsi quindi vediamo anche se lì ci possono essere dei movimenti ma prepariamoci perché sembra che qualcosa in uscita finalmente si stia muovendo stesso discorso per Decetelare per il quale sembra ci siano tantissime squadre la gazzetta ne riporta qualcuno poi andando a sbirciare una notizia in Belgio ho visto che anche il Club Rouge sarebbe interessato a riprenderlo in prestito chi lo sa per magari rifargli prendere valutazioni quindi stiamo anche attenti perché il Club Rouge ha un sacco di calciatori interessanti chi lo sa che facciamo uno scambio di prestiti per far rivalutare CDK in Belgio mentre ci prendiamo un altro talento sapete mi piace tantissimo De Kuiper per la fase sinistra Nusa sarebbe fenomenale per l'attacco ma molto molto giovane ma sono veramente tanti i calciatori interessanti che ha il Club Rouge quindi stiamo attenti anche a questa opzione anche per questo è tutto come sempre un bel mi piace e ci vediamo alla prossima